Siete pronti per cominciare a fare i carciofi al naturale? Volete vedere come si fa? Andiamo! Allora, dobbiamo pulire i carciofi. I carciofi in realtà sono molto semplici da pulire, però secondo me c'è una certa timidezza. A chiunque chiedi, sei pulire i carciofi? Ti rispondono, no, no, io non sono capace. E quindi poi si spendono un sacco di soldi al mercato dove ci sono tutte quelle donnine di una volta, quelle vecchiette che stanno lì e che puliscono carciofi con il limone subito che vanno a pulire per non farli annerire. Io vi insegnerò come si fa, è molto semplice. Allora, di che cosa avete bisogno? Di carciofi belli grandi come questi, poi di un coltello come questo che si chiama spilucchino. E che cosa andiamo a fare? Anzitutto leviamo le foglie, quelle più grosse, intorno in questo modo, senza dover essere precise, non vi preoccupate, togliete vari strati di foglie grosse e dure. Ecco qui. Intanto dovete sempre avere vicino a voi una grande bowl con acqua e limone in modo tale che come sono pronti li immergete qui. Anzi, lo facciamo subito. Acqua bella fresca. Prendiamo qualche limone, gli spremiamo qualche succo e tagliamo un altro in questo modo. E anche mano a mano che li pulite, li bagnate con il limone. Perché il carciofo è splendido, ha un colore meraviglioso e nero lo andiamo a rovinare poi. Il gambo non ci serve, ahimè ci faremo una crema. Andiamo anche più giù. Lo facciamo bello dritto. E questo è il nostro cuore di carciofo. Mano a mano che li puliamo, non c'è bisogno di fare nemmeno l'ultimo taglio secco finale perché questo carciofo non ha peletti, non ha spine, è bellissimo così. Sembra una rosa? È fantastico. Andiamo avanti, puliamone degli altri. Come si farà la nostra salamoia? Dovremmo far bollire un litro di acqua con due cucchiai di sale. E dopo andiamo a metterlo nel nostro vasetto di conserva, quando si sarà affreddata a temperatura ambiente. Ecco, abbiamo levato le foglie, tagliamo il nostro gambo, prendiamo il nostro spilucchino, partendo dalla parte finale del gambo, tiriamo via all'insù così. Attenzione a non bucare il carciofo perché nella salamoia, se qui andate a rovinarlo, poi si va a cuocere. La salamoia la potete fare anche con l'olio, quindi ci saranno i carciofi anche sott'olio, ma a me piacciono più così, soltanto con acqua e sale, in modo da abbinarli a qualsiasi tipo di piatto di carne, anche ben condito, o anche semplicemente con un carpaccio, con delle scaglie di parmigiano e un po' di rughetta, con una citronette di olio e limone. I carciofi poi sono buoni. E quindi perché non mangiarli sempre, tutto l'anno? E con questo metodo di conservazione potete gustarli quando ne avete voglia. ricordatevi sempre di bagnarli con acqua e limone per non farli annerire. Il nostro gambo. Andiamo a finire la nostra pulizia del gambo. Lasciamolo bello liscio. Non c'è niente di più invitante e di più gustoso di vedere un buon vasetto di carciofi in salamoia. Guardate quanto sono belli. Andiamo a preparare la nostra salamoia. Un litro di acqua. Quindi la mettiamo nella nostra brocca. Anche se con il salato possiamo improvvisare e quindi non attenerci alle regole della pasticceria, ma la salamoia va fatta bene. Quindi un litro di acqua. Dobbiamo calcolare bene la giusta dose. La mia brocca è da 500 ml, quindi non farò altro che riempirla due volte. Così abbiamo un litro esatto. Poi prenderò un bel cucchiaio grande da zuppa. Abbiamo detto due cucchiai di sale. Accenniamo il fuoco. E facciamo bollire. Io continuo a pulire i carciofi. Man mano che la mia bolle si riempirà, anche la parte della superficie dei carciofi andrà coperta con della carta bagnata con acqua e limone, in modo tale da non far ossidare i miei carciofi. Vi faccio vedere come si fa. Prendiamo della carta, assorbente qualsiasi, la bagniamo con la nostra soluzione acidola di acqua e limone e andiamo a coprire così. Facile, vero? Io ne avevo già puliti degli altri, che avevo coperto con la carta assorbente, limone e acqua per non farli ossidare. Ora procediamo all'invasatura. Prendiamo il nostro vasetto di vetro, sempre con la guarnizione in gomma, chiusura a molle col gancio. Vi siete ricordati di sterilizzare il nostro barattolo? Sapete come si fa? Guardate! La mia salamoia è fredda, abbiamo detto un litro di acqua e due cucchiai di sale. Poniamo adesso i carciofi nel nostro barattolo. Mettiamo anche qualche foglia d'alloro, che a me piace molto. La sistemiamo così, come volete. L'importante è che poi, quando mettiamo i carciofi dentro, prenderà la giusta posizione. Qui potete usare anche tutta la vostra fantasia e creatività nel sistemare le verdure in salamoia. Ricordatevi sempre e soltanto di fare la sterilizzazione prima di invasare e anche dopo. Non li schiacciate troppo. Magari cambiate il carciofo più grande con quello più piccolo, ma senza schiacciarli. Adesso dobbiamo mettere la nostra soluzione di acqua e sale. Prendiamo un mescolo. I carciofi poi fanno bene, devono essere mangiati sempre, non soltanto quando è stagione. E questo è il modo migliore per mangiarli freschi e naturali. Vi consiglio anche di aspettare qualche ora prima di chiudere il barattolo, in modo tale che se c'è da fare una seconda imboccatura di acqua e sale, si potrà. Non c'è bisogno di rimboccare. La soluzione va bene così. Ora possiamo chiudere e dobbiamo fare la seconda sterilizzazione. Vi ricordate come si fa? Grazie a tutti. I carciofi potranno essere gustati dopo due mesi di salamoia. Vi faccio vedere come saranno. Guardate quanto sono belli. Anche se hanno perso il loro colore viola, sono sempre molto invitanti. Queste sono le mie foglie d'alloro e sono pronti per essere gustati. Pensavate di aver già finito e invece no. Dobbiamo etichettare e magari anche dare un nome e vestire i nostri barattoli. Avevamo i carciofi al naturale che secondo me possiamo farli vedere perché sono bellissimi. E poi avevamo la marmellata di arance, gustosa, dolce e anche un po' amara. Ve la ricordate? Allora, cerchiamo di tenere i carciofi il più visibile possibile. Quindi pieghiamo in quattro il nostro tovagliolo in modo tale da coprire soltanto il barattolo. E poi mi piaceva molto questo verde. Che ne dite? Da anche un tono su tono dei carciofi. Proviamo. Allora, andiamo a fare un bel fiocco. Vi ricordate che dovete diffidare sempre dai barattoli che non hanno l'etichetta. La data di nascita e il nome è importantissimo. Ne va della vostra salute, eh? Che ne dite di questa bella etichetta? Semplice, con un filo di spago. Carciofi al naturale. O li vogliamo tenere, questo filo di ferro? È talmente sottile? Direi di sì. Non aggiungiamo altri spago. Facciamo così, intorno al nostro fiocco verde. Avete visto quanto è utile tenere sempre i fiocchi, i nastri, gli scampoli dei vostri cassetti? Ecco qui. E lo possiamo incastrare nel nostro verde. Da dietro non si vedrà nulla. Ecco qui. I carciofi hanno un vestito elegantissimo. Ora passiamo alla nostra marmellata di arance. Gustosa, amara, ma anche dolce. Dunque, dunque, vediamo cosa può andar bene. Oh, questa bellissima mollettina del coniglietto. Ci scriveremo che cos'è. Marmellata di arance. E quando l'abbiamo fatta? Ecco qui. E poi le andremo a mettere, vediamo un po'. Dove la possiamo incastrare? Le andremo a incastrare qui, proprio sul davanti. Direi che è il punto giusto. Però forse un po' di carta la possiamo mettere. Che ne dite di questa quale margherite? Mette tanta allegria. Che ne dite? Sull'arancione sta bene? Direi di sì. In realtà me ne serve poca. E poi mi piace talmente tanto che non la voglio regalare tutta quanta. Quindi me ne tengo un po'. La vado a tagliare. Questa molletta è un elastico. Vediamo se è sufficiente metterle intorno o se dobbiamo metterci anche un po' di spago. No, va benissimo. È della misura giusta. Questa è l'etichetta e qui avete il vostro coniglietto. Direi che oggi abbiamo proprio esagerato. Abbiamo fatto delle confezioni molto eleganti. Eccole qui. La marmellata d'arance e i carciofi al naturale.